buongiorno a tutti quanti quelli presenti qui fisicamente e quelli presenti virtualmente e torniamo alla lezione con il Torah oggi la lezione è la lezione di Mishnah proseguiamo con il trattato di Mishnah di Rosh Hashanah secondo capitolo quinta Mishnah e avete anche qui sulla lezione potete vedere sul live potete vedere il testo allora il testo della Mishnah ci parla delle domande che faceva il Bet Din ai testimoni che arrivavano a testimoniare la visione della nuova luna per poter poi eventualmente fissare e santificare il nuovo mese e abbiamo detto che venivano esaminati questi testimoni qui ora la Mishnah darà degli esempi di domande specifiche che si facevano agli testimoni agli Edim la Mishnah dice così come in che maniera si esaminavano o si esaminano i testimoni la Mishnah dice la prima cosa quali sono i primi che vengono esaminati perché abbiamo studiato già abbiamo visto che molte testimonianze venivano raccolte molti testimoni venivano e quindi come la priorità è che viene esaminato e portato dentro al Bet Din ed esaminato per prima allora la Mishnah dice prima di tutto la coppia quindi la coppia di testimoni devono essere sempre almeno due potrebbero essere di più però come base una coppia una coppia la prima coppia la coppia che si è presentata per prima viene esaminata per prima appunto la prima coppia che arriva viene esaminata per prima ora come tutte le testimonianze davanti al Bet Din quando vengono esaminati i testimoni per poter verificare la loro validità e la validità della loro testimonianza non vengono esaminati entrambi insieme vengono esaminati prima uno per uno in modo tale che poi il Bet Din può paragonare le due testimonianze che vengono appunto trasmesse originalmente in maniera indipendente l'una dall'altra questo stesso forma un altro modo di verificare la validità chiaramente quindi tra i due quale sarà il primo che viene invitato ad entrare e dare la propria testimonianza la Mishnah ce lo dice innanzitutto si fa entrare il più grande tra di loro quindi andiamo secondo l'età seguiamo l'età dei due e viene invitato il più grande e iniziano a fargli delle domande la prima domanda che si fa è in che maniera hai visto la luna? cosa vuol dire in che maniera? come hai visto la luna? i Chachamim, i Dayanim, i Giudici spiegano la domanda l'ifne hachamah o leachar hachamah dinanzi davanti al sole o dietro al sole cosa significa davanti al sole o dietro al sole? allora ci sono diverse spiegazioni la Gemara spiega e viene riportato nei commentatori della Mishnah che è molto semplice se noi parliamo della parte mancante della luna per così dire la parte che non si vede la parte coperta e abbiamo la parte scoperta la parte coperta è rivolta verso il sole o al contrario la parte scoperta è rivolta verso il sole? è chiaro come la Mishnah dirà più avanti che non è possibile che la parte coperta sia rivolta verso il sole perché se così fosse sarebbe quella la parte scoperta e non la parte coperta esattamente quindi questa prima domanda è estremamente banale e come prima cosa per capire se stiamo parlando di persone che con questa domanda si potrebbe subito bocciare la testimonianza ovviamente se la risposta fosse strana quindi questa è la prima domanda seconda domanda l'izona o l'idroma la luna è rivolta a nord o a sud rispetto al sole? ok questa già è una domanda che può essere in un modo o un altro a secondo del momento dell'anno a secondo del momento del giorno in cui viene vista la luna e anche qui ci può essere una cosa che sia possibile o non sia possibile di nuovo diventa un modo per poter sapere se bocciare la testimonianza terza domanda quanto era alta la luna? perché in diversi momenti la luna sembra più alta nel cielo o più bassa nel cielo cioè una galante e una luna alta all'orizzonte? sì 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 alta o bassa sull'orizzonte no luna calante o non calante non è qui il discorso perché deve essere la luna nuova chiaramente ovviamente se dicono la luna calante allora non c'è testimonianza perché può essere in questo momento luna calante e poi la domanda verso quale direzione era rivolta e l'ultima domanda che viene citata qui quando dice verso che direzione era rivolta è inteso diciamo le punte sarà la C o la D sì C o D ok sì possiamo dire così se la C è rivolta verso verso sud o verso nord questo intendi? sì ok perché D? perché prende la C al contrario la C al contrario sembra una D praticamente perché c'è la D ah perché è come se fosse chiusa dalla parte ok molto bene quindi se questo è rivolto verso nord o sud e l'ultima cosa vekamah ya rachave quanto era larga cosa vuol dire quanto era larga? grande lo spicchio che si vede non so no non credo lo spicchio credo più quanto era grande perché la luna può essere vista in maniera più o meno grande sì lo spicchio appunto quello che si vede della luna sì quanto era largo come? questo è più vicino o più lontano e l'altra domanda quanto era alta questa è la domanda più vicino o più lontano ora la Mishnah dice è chiaro che se e fa l'esempio della prima domanda ma ovviamente la cosa che adesso diremo si applica a tutte le domande se dovesse rispondere imamah se questo testimone che viene esaminato dovesse dire l'ifnei hachama era dinanzi al sole cioè che la parte coperta è rivolta verso il sole allora lo amar clume come se non avesse detto niente cioè la sua testimonianza non è assolutamente valida e la stessa cosa per le altre domande qualora dovesse rispondere in una maniera che non ha senso viene bocciata la testimonianza scusa non è far testimonianza pertanto è solo una testimonianza non valida esatto esatto è mancato il rispetto verso il tribunale cioè uno si presenta che evidentemente non sì ma in questo caso non è che viene messo a processo per falsa testimonianza può darsi che ha sbagliato può darsi che una falsa testimonianza non è sempre presa come una testimonianza da condannare in particolare anche se così fosse abbiamo visto che ci sono molte agevolazioni agevolazioni per far arrivare più testimoni per la testimonianza della luna come abbiamo visto nelle scorse lezioni e la misura dice poi se la testimonianza del primo sembrava valida allora dopo di esaminare il primo dopo di che si faceva entrare nel Bedin il secondo testimone della prima coppia e lo si esaminava adesso a lui se anche lui risponde bene non solamente risponde bene ma la sua testimonianza è conforme con la testimonianza del primo se le loro due testimonianze sono compatibili l'una con l'altra allora in quella situazione cosa succede la loro testimonianza è valida viene accettata dal Bedin e il Bedin cosa fa santifica il mese se questo fosse il primo o il secondo gruppo di Edim e fuori ci sono altri 10-20 gruppi di Edim che aspettano cosa si dice andate tutti a casa se le informazioni bastano del primo si questo diciamo se le informazioni bastano per santificare il mese fuori ci sono molti altri testimoni chiaro che viene fatto Musaf perché eroshodes però la domanda qui il soggetto della Mishnah sono i testimoni gli altri testimoni non dimentichiamo che fuori ci sono altre 100 persone che vogliono testimoniare prendiamoli in considerazione dice la Mishnah come li prendiamo in considerazione non abbiamo più bisogno di loro il mese è stato santificato cosa dobbiamo fare dice la Mishnah guardiamo il testo Ushear Colasgot riguardante tutti gli altri di tutte le altre coppie di testimoni gli si fa entrare e si chiedono loro delle domande principali generali anche se non c'è più bisogno e la Mishnah dice non che abbiamo bisogno della loro testimonianza ma perché allora e la bensì che dei scello jetzub pachenefesh perché non se ne andassero afflitti noi abbiamo fatto tutta questa strada e siamo giunti qui a Yerushalim o dove è l'edinagadol per testimoniare la visione della nuova luna e qui ciclo andate a casa non sapete più cosa succede la prossima volta non vengono più invece vengono portati gli viene fatto cavode entrare nel beddin parlare con il sinedrio rispondere a delle domande anche se generiche in maniera tale che siano sempre abituati a venire che prendessero l'abitudine di continuare a venire davanti al beddin a testimoniare quando vedono una nuova luna scusate perché perché può darsi che un giorno servirà la loro testimonianza non demotivarli e per non demotivarli esattamente ora la Mishnà dice subito la Mishnà successiva continua a descrivere cosa accade nel momento in cui viene accettata la testimonianza ed ora appunto leone passiamo dal soggetto testimoni al soggetto santificazione del mese quindi abbiamo accettato la testimonianza e arriviamo al momento in cui santifica come si dichiara ufficialmente la santificazione kiddush hachodesh la Mishnà ci dice guardiamo il testo Rosh Bet Din il capo del Bet Din quindi il più importante membro del Sanedrino del Sinedrio Omer dichiara Mekudash il mese è santificato dichiara il mese è consacrato e tutti coloro che si trovano lì Vechola Am e tutto il popolo Onin Akharav rispondono dopo la sua parola che ha detto Mekudash Mekudash doppiamente la stessa formula è consacrato è consacrato il mese quindi in tutto viene dichiarato tre volte una volta da Rosh Bet Din e due volte come risposta del appunto di tutti quelli che si trovano lì del popolo e la Gemara trae dai versetti le allusioni a perché ci si comporta in questa maniera è alluso anche nella Torah nei versetti che parlano del Chiddu questo dice la Mishnah ora Ben Shni Rabis ma no Ben Shloni Rabis ma no me cacinoto ora la Mishnah fa in realtà un altro aspetto del Chiddu che la Luna sia vista nel suo momento o non nel suo momento cosa significa nel suo momento o non nel suo momento a suo tempo significa nel trentesimo giorno quindi in questo giorno stesso conclude il mese precedente inizia il mese successivo che è praticamente come se fosse stata vista la Luna nel momento della sua nascita più o meno come concetto e allora ha senso chiaramente accogliere la testimonianza rendere consacrato santicato il mese in base alla testimonianza che è stata accolta nel momento della nascita della Luna cosa succede se in tutta questa giornata non arrivano testimoni quindi non è stata visualizzata la Luna nel suo momento ed eventualmente fosse stata sì visualizzata non nel suo momento significa nel trentunesimo giorno ha senso accogliere la testimonianza e dichiarare Mekudash sconsacrato il mese in base alla testimonianza oppure è automaticamente consacrato il mese visto che comunque è chiaro che è passato il tempo della nascita della Nuova Luna il mese c'è stato la nascita il Kodesh c'è stato allora in teoria dovrebbe essere Mekudash quasi automaticamente la Mishnah inizialmente qui a questo punto dice che sia stato visto nel suo momento o non nel suo momento quindi un po' successivamente trentunesimo giorno comunque viene consacrato Mekalcino Toccio è dal Bedin lo deve rendere consacrato con la dichiarazione ufficiale anche se è tardi anche se è tardi anche perché il conteggio per il mese successo parte da quello sì esatto però partirebbe comunque la domanda è se parte in automatico o se deve essere consacrato per forza il Bedin ora vediamo la prossima opinione nella Mishnah Rabbi El Azar ben Rabbi Sadok o Mer Rabbi El Azar figlio di Rabbi Sadok dice no se la luna non fosse stata vista la nascita della luna non fosse stata testimoniata nel suo momento allora Mekalcino Toc non lo si fa consacrare ufficialmente nel Bedin perché perché è già stato consacrato in cielo cioè come se dall'alto avessero già consacrato questo mese in quanto se la luna non è stata vista nel trentesimo giorno allora è chiaro che il mese deve essere per forza di trenta giorni non di ventinove e domani è come se dal cielo hanno dichiarato automaticamente che così è stato consacrato questo mese quindi automaticamente il giorno successivo diventa Rosh Chodesh è come se fosse stato consacrato e annunciato dal Bedin di conseguenza e l'alakha segue questa opinione di Rabbi Lazar Berabizadok cioè se cala la notte e non arrivano testimoni durante il trentesimo giorno automaticamente viene annunciato il nove mese domani senza passare per tutta la passi della consacrazione ufficiale come abbiamo visto prima anche se la mitzvah era guardate di voi il tempo sulla trenta oh bravo allora la Gemara parla di questa cosa in teoria dovremmo essere noi a dare a consacrare la a consacrare l'alakha a consacrare scusate il nuovo mese e la Gemara dice in questo caso la Gemara dice visto che tutto il Bedin e tutto il popolo ha visto consacrare il mese consacrare diciamo dal cielo quando già il trentunesimo allora diventa così accettato automaticamente è chiaro che il Bedin deve annunciare il nuovo mese perché sì è dato in mano loro però tutta la cosa di accettare i testimoni e esaminarli come abbiamo detto la Mishnah inizialmente diceva che bisogna consacrare secondo tutta la prassi anche qualora non fosse stato visto nel suo momento l'alakha no non è così si accetta che è Rosh Hodesh va annunciato dal Bedin però è una cosa che avviene diciamo che è come se è imposto imposto che Rosh Hodesh domani non può essere diversamente quindi tutta la prassi prima non c'è ok benissimo ora nella prossima Mishnah vedremo delle testimonianze interessanti riguardo a diversi Tachamim e diverse situazioni specifiche che sono accadute durante la testimonianza per il nuovo mese allora nella prossima lezione continueremo sempre qui buona giornata a tutti quanti senti di